Sebo, una bella prestazione, un bel risultato, 5-0, buona battipagliese. Devo dire un'ottima battipagliese, l'avversario comunque è umile, abbiamo fatto comunque una grande gara, c'è stato un grande impegno da parte dei ragazzi e è stato un risultato giusto. Non si sono mai resti pericolosi, l'abbiamo annullato da subito, quindi abbiamo avuto un'ottima approccia a questa gara. Anche la classifica comincia a sorridere e tanto anche alla battipagliese, un bel margine sulla seconda adesso. Sì, guardare tutti dall'alto fa sempre bene ed è sempre bello. Oggi stiamo iniziando a raccogliere dei risultati che avevamo già prefissato per l'inizio del campionato, poi adesso con il tempo arriveranno altre risposte. Come giudichi la tua partita? Il minutaggio minimo comunque è stato quello che è stato.